Ciao a tutti, in questo video voglio parlare dell'oroscopo del 2020, le previsioni segno per segno. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. E ti ricordi inoltre che venerdì 10 gennaio 2020 io farò a Torino un seminario su come sedurre le persone difficili e su come sganciarsi dai narcisisti. Venerdì 10 gennaio 2020 a Torino, ore 20.45, il riferimento 333 1511 703, ti lascio l'info nel box. E ti dico inoltre che se non puoi seguire i corsi puoi sempre abbonarti al canale, al mio canale principale Massimo Terramasco. Basta andare sulla home page e a fianco al tastino iscriviti, c'è il tastino abbonati, ti abboni ed inizi il tuo percorso di crescita personale. E veniamo diciamo al 2020, le previsioni dell'oroscopo 2020. Allora intanto l'anno 2020 in generale sarà un anno di cambiamenti. Per tutti i segni diciamo, c'è un vista di novità, però soprattutto per alcuni. Quelli che risentiranno dei transiti di Urano e quelli che vanno a che fare con Saturno opposto o con una nuova posizione di Giove. Giove, il pianeta Giove, entrerà nel seno del Capricorno. Si è affacciato nel seno del Capricorno già a inizio dicembre. E questo nuovo transito di Giove nel Capricorno innonda di opportunità e di fortune i segni di Terra. In primis il Capricorno, ma poi anche la Vergine e il Toro. Ma dà diciamo una sbocco di positività anche per Scorpione e Pesci. Il Cancro invece vede Giove in opposizione. Ma comunque Giove non è Saturno, per cui per questo tipo di opposizione non genera nel Cancro dei grossi diciamo, delle grosse problematiche. Semplicemente il Cancro dovrà impegnarsi di più per raggiungere i suoi obiettivi. E poi c'è il seno di Saturno. Allora, Saturno che dal Capricorno, diciamo così, eccetto in una piccola pausa, sarà nel Capricorno, eccetto con una piccola pausa da marzo a luglio 2020. Quando sarà in acquario. Saturno, nel seno del Capricorno, dà concretezza, costruttività e fiducia nelle cose pratiche. È un Saturno benefico per tutti i segni di Terra, ma anche per lo Scorpione e i pesci. E veniamo alle previsioni segno per segno. Prima facciamo una panoramica. Allora, ogni anno si tende a evidenziare una sorta di segni favoriti. Il 2020 vede sicuramente favoriti cinque segni. In primis il Capricorno, poi la Vergine, ma anche il Toro, lo Scorpione e i pesci. Sono i segni che viaggiano alla grande. Ma veniamo un attimino a cercare di capire, segno per segno, come andranno le cose. Ovviamente per una previsione per curata bisognerà poi, diciamo, considerare anche l'ascendente, la posizione degli altri pianeti nel tema astrale. Però, iniziamo a vedere un attimino in generale. Allora, per l'ariete. Per l'ariete il 2020 sarà sicuramente un anno movimentato, un anno di energie. Ci saranno energie, l'ariete ha sempre energie. Quindi sarà un anno super energico con qualche intoppo, però. In amore si può avere passione, perché l'ariete comunque va sempre a ricerca di passione. Cerca di partire in quarta, però poi ci può essere qualche facciata. Quando si parte troppo velocemente si rischia di prendere qualche nasata. Il lavoro andrà bene soprattutto nel periodo invernale e anche durante l'estate. Ma in primavera ci saranno un po' di problematiche per quanto riguarda il lavoro. Ma in generale non è un brutto anno. Il Toro è uno di quei segni che avranno dei grossi cambiamenti perché Saturno e Giove stazioneranno entrambi nel seno del Capricorno. Saturno fino a fine marzo e poi passerà in acquario. E rendendo il Toro un po' meno ottimista del solito. In questi mesi, diciamo, devi darti da fare perché devi mettere energia nella tua vita se vuoi ottenere dei cambiamenti. In amore il mese migliore è quello di febbraio che forse ti permetterà di consolidare una relazione che già conosci o comunque una situazione piacevole. Il lavoro sarà cambiamento, porterà del cambiamento qualcuno. La vera rivoluzione sarà lavorativa a presenza del Toro. Possibilità magari di trasferimento all'estero, di cambiamenti. E poi veniamo ai gemelli. I gemelli nel 2020 riusciranno a eliminare l'opposizione di Giove e quindi le cose cominceranno ad andare un po' meglio. Sotto la spinta potente anche di Saturno che ti permette di iniziare a raccogliere dei frutti positivi. C'è la possibilità di un consolidamento di una relazione d'amore dopo flerte, avventure e magari anche sofferenza avuta nel 2019. Sul lavoro, diciamo, devi darti un metodo per evitare le dispersioni. È fondamentale da un punto di vista lavorativo darsi un metodo perché altrimenti rischi di non fare nulla di buono fondamentalmente. Quindi questo è veramente importante. Però è un anno medio, diciamo. Il cancro, allora, il cancro dovrai mettere più energia del solito perché anche se è un indole casalinga piuttosto pigra, devi essere, devi spronarti all'attività perché ti è opposto Saturno e quindi è un fardello che ti porti dietro. Anche se, diciamo, Saturno ti è in opposizione ma solo fino ad aprile, quindi questo ti può dare dei benefici. Dovrai, diciamo, conoscere un po' di difficoltà, ma anche dovrai, come dire, le difficoltà si affrontano, diciamo così. Anche sia nella vita amorosa, sia nella vita professionale, dove dovrai concentrarti sul pragmatismo, altrimenti rischi di prendere delle scoppolate. E poi c'è il leone. Il leone ha avuto un ottimo 2019, ma ruggisce anche nel 2020. Un po' meno che nel 2019, che è stato l'anno del leone. Però il 2020 sarà comunque un anno tranquillo, con un amore un po' inquieto, però diciamo un po' di inquietudini in amore che potrai conoscere magari persone diverse, ma comunque saranno un po' inquieto. Nel lavoro invece, se metti impegno e energie, avrai soddisfazione, diciamo così, riuscirai a raggiungere delle soddisfazioni. E poi c'è il segno della vergine, che è uno dei favoriti del 2020. Quindi stappa pure lo spumante, brinda, avrai giove super favorevole che ti porterà fortuna. In amore tutto è possibile, consolidare una coppia, ripartire con un'altra relazione, se sei single potresti davvero incontrare la persona giusta, o è possibile anche rientro con un ex. E ci saranno anche sicuramente dei successi professionali, che ti porteranno magari ad avere un ruolo o un lavoro più prestigioso. Poi abbiamo la bilancia, che nel 2020, diciamo, si apre con Giove e Saturno, ostili. E quindi difficoltà nell'inizio. Fino alla primavera, grandi difficoltà. In amore dovrai aprire il tuo cuore, diciamo così, e superare un po' questo tuo vincolo dell'estetica. Cioè andare oltre l'estetica e devi tagliare i rami secchi, altrimenti resterai impelagato, impelagata, in situazioni poco piacevoli. Il lavoro è senza lode, senza infamia. Diciamo che il minimo sindacale l'avrai, però diciamo che non è il tuo anno favorito. Veniamo allo scorpione. Lo scorpione è un altro dei segni favoriti nel 2020. Avrà, dalla sua, pianeti importanti come Saturno, Giove e Marte, insomma, vibrazioni positive. In amore devi tagliare i rami secchi, se te ne restano a tagliare devi continuare a tagliarteli. E ora sei pronta per vivere l'amore. L'amore con la maiuscola che ti porti qualcosa di bello. Sul lavoro avrai voglia dei cambiamenti e potresti fare una scelta inaspettata, come un trasferimento magari in un'altra città o un cambiamento di lavoro. Poi abbiamo il Sagittario. Il Sagittario 2020, diciamo, particolare. Diciamo che il Sagittario da idealista dovrebbe diventare un po' più realista, soprattutto all'inizio dell'anno che avrà dei pianeti in opposizione. Saturno diventerà favorevole in primavera e poi verso fine anno. In amore è molto meglio essere più riflessiva perché seguire il riflessivo, seguire gli impulsi ti possono portare, diciamo, a vivere situazioni non molto favorevoli. E poi veniamo al Capricorno che quest'anno è il top della classifica, che ha Saturno dalla sua per un bel po' e Saturno è un pianeta lento, pesante, e quindi inizierà a raccogliere ciò che è costruito. Adesso il Capricorno avrà in favore anche Giove e quindi le cose andranno bene un po' sotto tutti i punti di vista. Amore, lavoro, relazioni. Sul lavoro ci saranno importanti riconoscimenti e sarà un anno di svolta, diciamo, di cambiamento e tempo di raccogliere i frutti. E poi abbiamo l'acquario. L'acquario, il segno dell'acquario, è un segno che non avrà grosse difficoltà. Si preannuncia un anno molto movimentato, soprattutto da fine marzo ai primi di luglio, e potrai assestare un colpo, diciamo, da maestro sul lavoro. L'acquario torna sereno anche per quanto riguarda la passione e avrà la possibilità di tagliare i ponti col passato, che non ti appartiene più. Hai fatto fatica, diciamo, a farlo lo scorso anno e quest'anno invece ce la potrei fare. Potrai liberarti, diciamo, finalmente di fardelli che non ti interessavano più. E poi veniamo al segno dei pesci. Il segno dei pesci devi essere pronto, perché il 2020 è un anno ottimo, che ti porterà a delle situazioni molto importanti e ti permetterà di raggiungere treguardi favorevoli. Anche in amore, i passaggi astrali sono molto favorevoli. E quindi sul lavoro riuscirai anche a superare timori e insicurezze e raggiungere obiettivi fondamentali. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione a questo nuovo canale qua. Però ti ricordo che venerdì 10 gennaio 2020 a Torino farò un seminario su come sedurre le persone difficili e come sganciati dei narcisisti. Mi raccomando, il riferimento è il 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che sul canale Massimo Terramasco è disponibile l'abbonamento. Quindi vatti a abbonare e vedrai che migliorerai la tua performance e le tue prestazioni anche nel 2020. Per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo. Ciao.